su la Colombo, 128 km di orari fotografato, il limite da quant'era? a me ma... il limite da 80, a 50 km di orari è stato un pensiero della vadetta però? che sono dopo i 5 anni oh! scusami, non so, però ne fa 48 km di orari che cosa ho preso? io non ho sancatore non ho un rapporto, ma deciso ma... ma... fanno aperto lunga? dopo? no, per me ha perso osse, tornavo dall'euro Saluta, saluta, saluta.